Ben ritrovati gentili amici del canale Gianluca Rossi TV, canale YouTube, di nuovo insieme. Prima di tutto un ringraziamento a tutti quelli che hanno guardato l'omaggio, il mio video omaggio personale con tanto materiale dal mio archivio dedicato all'avvocato Peppino Prisco perché in pratica ci manca moltissimo da quando se n'è andato 21 anni fa, simbolo dell'interismo in particolare mi ha fatto molto piacere che mi abbia scritto anche l'avvocato Luigi Maria, il figlio dell'avvocato Prisco al quale ho inoltrato questo materiale e molto di questo materiale devo dire era inedito anche per lui e quindi mi ha fatto molto piacere. Ora torniamo ai giorni nostri in attesa delle due semifinali mondiali, la mia favorita continua a rimanere l'argentina ma sapete che in realtà la vera favorita è la Francia insomma perché ha una potenza di fuoco che nessuno ha, la grande sorpresa è il Marocco e poi una nuova rivelazione ma nuova fino a un certo punto visto che è vice campione del mondo che è della Croazia e quindi sono proprio curioso di vedere queste due semifinali, Argentina come sapete Croazia e questo ci porterà per dal 1982 ad oggi credo sia l'undicesima volta comunque vada quella partita un interista in finale e questo comunque insomma è una piacevole consuetudine che si registra fin dal 1982, poi anche in qualche mondiale antico, pensate a meazza soltanto e poi dall'altra parte Francia-Marocco che è una partita tutt'altro che leggerina dal punto di vista ambientale mi immagino come verrà vissuta a Parigi e a Marsiglia e in tante città francesi dove ovviamente le comunità magrebine sono numerosissime, molto più numerose che in Italia. Noi parliamo però dell'Inter, allora non ci sono grandissime novità però c'è una cosa di cui nessuno parla, cioè in questo mercato che si aprirà a gennaio l'Inter dovrà obbligatoriamente o meglio proverà perché poi dovrà, si fa presto a dirlo, poi bisogna trovare effettivamente l'incastro giusto. Al di là della corte che continua ad essere portata da parte nera azzurra a Marcus Thuram, insomma un obiettivo che conoscete tutti, cercando ovviamente di convincerlo a dire di sì all'Inter, a dire che rispetto al Bayern avrà molte più possibilità di giocare qui che poi è tutto da vedere perché con Lukaku e Lautaro, teoricamente confermati anche l'anno prossimo, non sarà facilissimo neanche per Thuram, ma sicuramente credo che avrebbe più spazio all'Inter piuttosto che al Bayern e quindi l'Inter ci sta provando come sempre, ma sapete che dal punto di vista economico il Bayern rispetto all'Inter è una corazzata. Aumentano come vi ho detto nei giorni scorsi sempre di più le possibilità che Gossens rimanga e poi vedremo naturalmente a giugno e la cosa non mi dispiace perché comunque non mi rassegno al fatto che Gossens lasci l'Inter senza averci fatto vedere qualcosa, qualcosa di importante, qualcosa che avevamo già visto all'Atalanta. Il segnale è quel gol del 3-2 al minuto 89, al Camp Nou di Barcellona quello è stato il gol della Champions, però è chiaro che poi, vabbè, Gossens ha segnato anche col Bologna, ma insomma continua a rimanere di marco il titolare di fascia. Ecco, mi piacerebbe che Gossens riuscisse perlomeno a mettere dei dubbi su Simone Inzaghi per quella fascia, perché adesso di dubbi è giusto che Simone Inzaghi non ne abbia e li risolva a favore di Di Marco. Quindi l'altro movimento grosso di mercato stando ai rumors potrebbe essere quello di Dunfriss, che comunque è vero che nella partita con l'Argentina ha causato un rigore e l'ha vista poco, ma devo dire che quella partita con gli Stati Uniti, col salvataggio sulla linea e due assist e il gol, hanno comunque indicato che questo giocatore pur non essendo un fenomeno, non è neanche mediocre come ogni tanto mi scrive qualcuno che l'unica palla che guarda, che conosce, probabilmente è una delle sue, perché va bene tutto, nessuno dice che Dunfriss sia a livello di Hakimi, ma da qui anche a giudicarlo un mediocre mi sembra francamente esagerato. E infatti Dunfriss ha indubbiamente dei corteggiatori importanti, di corteggiatori importanti anche in Premier League. Però è chiaro che far entrare Turam e far uscire Dunfriss comporta da un certo punto di vista un'abbondanza in attacco, perché non credo che si riesca a piazzare Correa, magari in anticipo se ci fosse questo miracolo, ma non ci credo perché lo stesso Turam ha detto che non vuole andarsene prima di giugno della Bundesliga, però è chiaro che se partite se Dunfriss poi non è che puoi fare con Darmiane e basta, è bella no, è chiaro che lì devi trovare a questo punto un giocatore esperto soprattutto perché l'Inter ha la Champions, no? Però mi sono dilungato un po' sui colpi grossi, ma vi devo parlare, come avete visto, di copertina di giocatori che tutti abbiamo dimenticato. Esposito, Brasau, Radu e Dalver sono quattro giocatori che praticamente sono già rientrati all'Inter. Radu non è riuscito a rilanciarsi alla Cremonese, ha perso subito il posto a vantaggio di carne secchi, anche l'esperienza di Brasau in Brasile non è stata buona e quindi ce l'hanno rimanato indietro, poi sono tutti giocatori sempre che hanno avuto degli infortuni, non parliamo di Dalver che si è completamente rotto e anche Salvatore Esposito ha lasciato l'Handerley, tra l'altro redarguito dal suo allenatore, è andato a vedere la Juve Stabia mi pare, è tornato in Italia senza permesso, dimostrando di avere anche un caratterino un po' particolare. E questi sono quattro giocatori dal quale non fraintendetemi, non credo che l'Inter possa ricavare denaro o altra utilità assolutamente, però come sempre bisogna cercare di collegarli in questa seconda parte di campionato, trovargli comunque una collocazione minima, poi tutti ti chiedono di pagargli l'ingaggio, anche perché Dalver ha ancora un ingaggio credo superiore ai 3 milioni, è stata una delle operazioni più fallimentari nella storia recente dell'Inter, poi il giocatore si è anche fatto male e quindi tenete presente che noi guardiamo sempre i colpi importanti di mercato, ma l'Inter ha anche il problema adesso di dover mandare questi quattro giocatori che se non restano qua da muffire per sei mesi, trovare una collocazione a questi giocatori. Se Dalver, Radu e Brasau, per tutta una serie di motivi, Radu e Brasau sono due portieri, hanno comunque una certa quotazione minima, ecco magari mi aspettavo che Esposito invece potesse in qualche modo dimostrare il suo valore all'estero, un valore migliore di quello che ha dimostrato finora. E però bisogna piazzarli, quindi bisogna piazzarli, sono operazioni che non porteranno assolutamente nulla all'Inter, lo ribadisco, se non un piccolo risparmio dei loro ingaggi restanti, perché l'augurio è di trovare una collocazione per questi mesi che possa in ogni caso rilanciare i giocatori altrove e che possa comunque far risparmiare anche qualche soldino all'Inter. Capirai quanti soldini, ma vi assicuro che qui si guarda anche il centesimo. E quindi tenete d'occhio Radu, Brasau, Esposito e Dalver in uscita a gennaio. Sembra che si riesca a farli uscire. Un saluto da Gianluca Rossi, a presto.